È fatto che il nostro paese non ha un presupposto, è un fatto molto grave. Ma se sei, è la legge più importante del paese qui. Però, ora si parla di fatto che il governatore non affirma. E non è una bazzucca del governo che si tirano. Il governatore si è sequestrato le finanze pubbliche, il governatore si è ora in un atto inconstituzionale. Tutte le cose non si ascoltano, è la nostra mirata con la imprensa internazionale. What Brazil, the Netherlands? Il governo è molto importante che non è crescere. Non c'è un altro paese di Aruba, l'Università di Aruba. Tutte le mandano bazzucca, reaccionando, arriva il governatore. Però, ora, chi ha fatto la placa del paese qui? Governatore? Chi ha fatto il presupposto irrealistico? Governatore? Chi ha fatto il risultato che si sa, ma si è buono che cosa qui si passa? Governatore? Con un nome che si è buono che si può riusccire a mezzurro, il ministro Mike Eamann. Perciò che si è buono, dove il paese qui, e poi si è buono che le passano, il fiesce non si è buono che il paese a mezzurro, che perjudicano il fine di tempo. Perciò ora, non si è buono, non si è buono, non si è buono che i paesi che sono i copi, non si è buono, Governatore? Non si è buono, che si è buono che il presupposto, è buono di cose importante, ma non si può essere, ma signor, voi siano un cammino per arrivare, non. Il tempo di gabinete o di BEP, non la gobernadora non si può fare un presupposto. Il tempo non si può fare un presupposto. Quindi, in un mes, il ministro Eimann sempre ha avuto il governo di BEP che è un problema in Irlanda. Non sempre ha avuto un problema. Il gabinete o Eimann ha avuto una relazione con questa relazione qui. No. Il più l'esposto non si può fare un risultato tra il governo di BEP che non si può fare una violenza. E non si può fare un risultato di BEP che è un governo che mi hanno.